Sarebbe ad una svolta dunque l'indagine sulla morte di Calogero Sanzone, il pensionato di 73 anni deceduto lo scorso 28 agosto, tre tavoli all'aperto di un bar di piazza Saverio Friscia, al culmine di una zuffa avuta con un giovane Saccenze. È in corso l'acquisizione da parte degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza agli ordini del dirigente responsabile Luca Pipitone degli ultimi elementi utili a completare il quadro investigativo di una vicenda che naturalmente, per ovvie ragioni, si sta rivelando assai delicata e, anche per il coinvolgimento di un minore, particolarmente coperta da riservo. Si apprende tuttavia che dopo l'autopsia, su cui al momento vige il più stretto riservo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Palermo è in procinto di formulare ufficialmente l'accusa al ragazzo coinvolto nella discussione con la vittima e indagato sin da subito. Sembrano non esserci dubbi sul fatto che al minore verrà contestato il reato di omicidio preterintenzionale per gli inquirenti. Infatti, la morte di Sansone sarebbe scaturita dalla conseguenza delle percosse da lui subite. La vicenda ha notevolmente scosso la comunità. La notte tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto, Calogero Sansone, che pur essendo saccenza era qui in vacanza, risiedendo da anni a Teramo, in Abruzzo, era seduto al tavolo del bar insieme a familiari ed amici. Poi l'episodio tragico. Il pensionato e il minore sono venuti alle mani dopo che Sansone si era lamentato del fatto e che il giovane non avesse assicurato al guinsaglio il suo cane. L'animale infatti girovagava tra i tavoli del bar. Inizialmente tra Sansone e il giovane c'era stata una discussione, poi sempre più animata, fino a degenerare. Fino a quando il corpo senza vita del pensionato è rimasto sul pavimento di Piazza Severio Friscia. Una tragedia a dir poco incredibile.